Buonasera Spiega cosa stai facendo Sto facendo Sto applicando lo sgrassatore Non ancora della VD40 Perchè non ce l'hanno ancora mandato Pronti per lavare la moto Non ti crede Beh iniziamo il video dai Oggi laveremo e monteremo i cerchi Modard del KTM XC 125 2015 6 day che in autunno sarà in vendita Guarda guarda Ti ha rotto? No non è vero Guarda quel pezzo lì Guarda Ma no rimbalzo Ma no rimbalzo Come vedete Qua abbiamo una poccia C'è il pennello E dopo pulire No dai con te da sporchi di fio E dopo tutto Questo non è l'ultimo E tutte le cose che potrei essere Questo è l'ultimo E dopo tutto E dopo tutto Porto dentro Porto dentro Atesa Anche Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti